Non chi trasportava, ma chi gestisce e smaltisce i rifiuti dovrà occuparsi della bonifica. Una sentenza del TAR sulle bonifiche del CHEU rimette così in discussione tutto il procedimento che riguarda i siti inquinati in giro per la Toscana. I giudici e amministrativi adesso hanno dato ragione a due aziende ora feretine, Chimet e TCA, che hanno avuto la meglio sulla regione. Le imprese dunque non saranno condannate a pagare la bonifica delle aree inquinate, nel caso specifico un sito di stoccaggio di bucine legato alle aziende di Francesco Le Rose. Annullando così di fatto l'ordine di bonifica fatto dalla regione nel 2023, il rischio però è che in ultima istanza dovranno essere proprio gli enti pubblici a doversene far carico. La regione ha comunque già annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato. Per i presunti smaltimenti illeciti di CHEU, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone, tra imprenditori, alcuni dei quali ritenuti vicino all'andrangheta politici ed amministratori pubblici e sei aziende. Compariranno di fronte al GUP il prossimo 10 maggio, giorno in cui è in programma l'udienza preliminare. Tra gli enti che invece hanno già annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile, ci sono il Comune di Buccine e il Movimento Consumatori Toscana.